Un'ora e trenta minuti per riuscire ad entrare, ragazzi, io non so se si vede, ma c'ho una faccia da sonno, mi stava iniziando a venire il sonno, sono le due eventi, noi dobbiamo far uscire questo video alle sedici, oggi l'Epic Games ci sta facendo davvero dannare. Io ero spragata nella sedia, ho anche lo schienale mezzo abbassato, perché ho proprio caricato all'indietro. Allora, 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 parco giochi hanno aggiunto un sacco di roba nuova, ne abbiamo parlato nel video precedente, ma se non l'avete sentito, hanno aggiunto. La nuova Spike Stadium è migliorata, è più figa ed è migliore di prima. Hanno aggiunto una corsa d'ostacoli, hanno aggiunto un tiro al bersaglio, hanno aggiunto una sfida di costruzioni a tempo e hanno aggiunto le battaglie navali, con le navi sia corazzate che non corazzate. Queste io non lo sapevo che erano pure corazzate. Sì, hai le due versioni, hai due versioni diverse, quindi raga abbiamo un botto di roba da provare. Ovviamente proviamo soltanto certe cose alla volta e neanche deciso che cosa proviamo. Facciamo che per adesso le tiriamo tutte e decidiamo oggi su che cosa fare il video. Poi con Solini nei commenti ci direte il prossimo questo, il prossimo questo. Fateci sapere. Allora, io mi sono già attaccato. Dovete urlare, voglio questa come l'ho urlato io. Ma tu stai lutando? Eh, Steph, io non ho la più polire dove si possono trovare queste robe. Va bene. Saranno sempre quelli, no? Io l'ho dato per scontato. O no? Cioè, mi sembra la cosa più probabile. Ok, sì, hai ragione. Vero? Sì. Ok. Allora, Steph, adesso è notato. Fede è diversamente intelligente. Sì, ovviamente. Dimmi. Ti lanci da un palazzo per aprire il deltaplano. Fede, lascia stare. Non toccare i tasti dolenti. Non voglio lamentarmi in questo video. Ma non mi sto lamentando. Fede, io sì. Quindi è un video carino. Il Fortnite è un gioco fantastico. Non hanno avuto una pessima idea. Allora, ragazzi, io vi dico già. Guardatevi il video che esce domani. Della gara di kill con gli zombie. Fino alla fine. Perché alla fine ci sarà uno Steph come non lo avete mai visto. Non dico altro. Io vi sto un airdrop in questa zona. Non lo vedo più. Dico, li rossi? Ehm... Mi sta in alto. Va, mi ributto da un palazzo. Ho solo la spachistedium. Allora... Ah, guarda. Qua ci sono tre vending, Steph. Sì, perché le hanno aumentate tantissimo. L'avevo letto. Trappola, bounce. Ah, questa ha solo le trappole. Questa ha le armi e questa ha le armi. Carino. Wow. Eh, è carino sì. Precosa zero. Che cosa? Le cose. Ah, non ci avevo fatto caso. Oh mio Dio, ma questo è un sogno che si avvera, Steph. Ti ricordi quando farmavamo i bouncer? Sto per piangere. Sto per piangere. Cioè, mi sto emozionando, Steph. Perché voi consulini ovviamente il backstage della preparazione di video. Non li vedete, ma quando abbiamo fatto le cose per riempire di bouncer. Cioè, vi ricordate che poi nella parco giochi mancavano tipo dieci minuti alla fine? Perché era un delirio riuscire a farmarla. Infatti, Steph non riesce a fermarsi perché è troppo emozionato e gli stanno scendendo le lacrime. Basta, Steph, però! Ok. Cioè, ho 65 bouncer, 70 trappole e 73 frozen. In due secondi. E... Vuoi vedere la Specky Stadium? È l'unica che ho. Sì. Ma non tirarla qui. Guarda. Ti hai buttato via. Praticamente riesco ad aprire il deltaplono anche solo tirando un impulso. Assurdo. Vai. Non è al posto migliore dove tirarla. Io l'ho anche detto. Assolutamente. Però guarda cosa c'è. Questa è l'unica cosa che io mi ricordavo. Non le trappole. Non le trappole! Io non ho mazzo, grazie. Hanno messo le vending machine anche qua. Che è sta roba? Con oggetti specifici per... Non lo so. Lo spawn. Lo spawn. Ah, sì. Allora, praticamente... Aspetta, aspetta, provo. No, lo voglio spiegare io. Praticamente adesso... Abbiamo gli spawn e dov'è tornare in vita nell'arena stessa. Così non dobbiamo tornare... Voglio vedere se funziona. Eccomi qua! No, raga. Sta roba è bellissima. Ma dall'altra parte, mi vedi, Steph? No, non ti vedo. Ok, ti vedo, ti vedo. Ma non sono scesa neanche con un deltaplano. Non devi scesa. Esatto! Non sono scesa. È quello il concetto. È quello. È questa qua. Esatto. E anche qua altre vending, Steph, se ti interessa. Sì, vabbè, le clinger gratis, le impulso gratis, le impulso migliori, i bouncer. No... Ok, allora, questo aggiornamento è bellissimo. Per la parco giochi, questo aggiornamento è bellissimo. Però, Steph, siccome non possiamo fare un'altra ora e mezza di coda, dobbiamo muoverci a trovare una nuova attrazione tra quelle che hanno aggiunto, no? Esattamente. Quindi ci fermiamo così nel commentare, andiamo a cercare quello che dobbiamo cercare, e ci vediamo dopo. Che è successo a fare? C'è una cosa strana. Niente, andiamo. Informazione utile e non si capisce perché Steph non legge bene le patch notes ogni volta. L'avevo detto io. Le vending machine nuove che danno tutti i nuovi portati di cose varie, insomma, tutte le cose nuove dell'aggiornamento, si trovano a sud di lago, giusto? Sponde del saccheggio, quindi l'ultima, Steph. Sì, è quello. Io ho dubbi, Ferre. Non mi ricordo più, ok? Ferre, 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 ferre. Oggi è una giornata terribile. Lo so, infatti, Steph. La giornata più bella dell'anno. Stai parlare a meno del solito. È incredibile. È assurdo. È impressionante. È strabiliante. Citazioni random. Allora, andiamo a vedere, va. Io sono praticamente arrivata. Allora, tecnicamente sud è questo, no? Io vedo una piattaforma lì a terra. L'hai messa tu o è qualcosa? C'è una piattaforma in mezzo al lago. No, non l'ho messa io, Steph. Io non l'ho messa. Né che io. Stai scherzando? No. Chi l'ha messa? Eccole! Un applauso. Voglio vedere. Ma Steph è una zattera? No, c'è un cartello. Non lo so. Non lo so. Perre, ma chi se ne frega. Ma chi se ne frega. Uno. Guarda che bello. Due. Tre. Quattro. E cinque. Io sono carico. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Pronta? Ma quindi hanno anche rarità diverse. Vai. Una. Ma è solito. Quelle che fai durante la settimana nelle challenge, le corse a tempo. Io mi aspettavo un qualcosa di nuovo, non un qualcosa di riciclato. Vedi? Cosa? No, aspetta. Aspetta, aiuto. Scusa. Gioco? Ah no, sì. Si parte e lì devi pigliare. Dai, è quella cosa, Steph. Quella stessa delle... Ma... È orribile. Ma... Passiamo al prossimo, Steph. Dimmi che sarà più interessante, di scongiura. Aspetta, ormai io... Mi hai chiuso, vero. Maledetto. Poi sono in alto. È di quelle difficili, però. Finito? Ma io non l'ho finita. E poi può andar bene. Starti e devi... No, questo è bello. Questo è bello. Dovremo farci un video. E poi è randomico. Dovremo farci un video. Molto carino. Molto carino. Vediamo, aspetta. Ho una gara di costruzione viola. Tu quella hai buttato? Quella viola, mi pare. Prova. Magari... Aspetta, no. Ti sei messo in mezzo. Magari sono cose diverse. E dai, dammi un posto dove lo posso fare. Qua. Questa volta. Sempre un lama? Sì. Ok. Magari cambia se cambiamo la rarità. Può essere. Oh, questa volta è uscito bene. Credo di sì. Io me lo sto provando. Start minigame. 3, 2, 1. Ma me l'ha fatto startare. Bellissimo. Dai, divertente. Carino. Carino, carino. E corrono un po' troppo, però. Oh, miserabili. Dovevi comprarti le M16, infatti. Yeah. Chi è? Ah, 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 ah. Ma hai giocato da solo, in pratica. Non mi contava i punti. Sì. Ok. Passiamo alle navi? No. Perché? Perché fanno troppo casino, però. Scusate. No, come ho fatto così a pozza? Scusate, adesso... Magari in cielo, Steph. No, vabbè, dico... Io vado qui... È solo cechino. E invece mi stai dando tutte le armi. Perché mi stai dando armi? Vabbè, vediamo. Steph è cechino. Ok. Inizio. Start. Sì. È fatta apposta così. Quindi in base alla rarità, quello di sparare cambia. Capito? Wow. Che c'è? Stavo arrivando da te e c'è qualcosa che mi ha spinto lontanissimo. Perché? Ma dai, Steph, per favore. Sì, comunque... Sì, esatto, Steph. È così. In base alla rarità, ogni minigioco cambia. Sì, questa è tipo la versione per imparare a cechinare. Perché hai quello fermo, ma hai pure quello che si muove. Comunque, ah, 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 mia battuta ha fatto 3000 punti. Bravo, ah, ah, ah. Bellino. Questo mi piace. Fammi rifare. Mi togli la mia stessa struttura? Sei geniale. Ok, vai. Sei, ma è fastidioso, però. Però anche questo per allenarti a costruire e modificare, carino. 6 secondi e 9. Riproviamo. È fastidioso all'inizio. Ok. Però ho capito come fare. 4 secondi e 95. Ho battuto. Bravissimo. Adesso tiriamo le navi? Non fa. Devi billare di più. No. Lo so. Basta, devo tirare le navi, poi non ci stanno. Io l'odio, io l'odio. Vai, raga. Sono pronto. Bravissimo. Questo è inutile, dai, però. Ovvio. Cioè, dura 3 secondi, a che serve? Vabbè. Fatti, no, ma erano carine le strutture particolari come il lama. Perché ti diverti, tipo, ti metti a fare la sfida in due a chi fa prima il lama. Esatto. Che comunque non è una cosa comune e quindi ti ci devi impegnare, ma non il building classico. Aspetta, dobbiamo riuscire a mettere sta cavolo di nave. Sì, voglio la nave leggenda. Non so dove metterla, Steph. Sto molto depressa. A me non me la fa tirare in sola parte. Io la tiro giù. Eh, non te la fa tirare. Non me la fa tirare. Anche a volerlo fare. Come metto le navi, io? Cioè, serve un posto piatto. Secondo me è l'inizio del lago. Se andiamo da questa parte del lago, riesco a tirarle. Io ci provo. Vediamo. Qua. Tipo qua. Da questa parte. Vieni qua. Esatto, stiamo vedendo lo stesso punto. Bravo, Steph. Sì, 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 sì. Sì, 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 è ottimo. Sì, 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 sì. Ucala! Non mi sbalza lontano. Ci siamo! Ecco, eccole. Anche se l'altro è mezzo baggata nella montagna, però ci siamo. Ha funzionato! Sì, il lago è l'unico posto dove te la fa mettere. Anche se, se non ci fosse quel cratere al centro, sarebbe ancora meglio. Allora, io voglio visitare la mia nave. Vai. Ma era quella la mia. Cosa? Era quella la mia. E chi l'aveva recita? Io. Perché era la più vicina a me. Ah. Quella è buttata comunque? Comunque, quella è? Quella è leggendaria. Ok. Però non è corazzata. Infatti. Ma anche l'altra era di legno, quindi qual è quella corazzata? Sono molto confuso. Sono un po'... Oggi sì, è giornata di confusione. Non capisco quello che stiamo andando a fare, quello che stiamo facendo. Ok. Vabbè, la mia è caruccia, dai. Sì. Un po' piena di alberi in mezzo, però. Ma fa a farci grandi cose, eh. Mi stai prendendo in G? No, no, davvero. Puoi fare battaglia solo esplosivi, battaglia solo cechini, battaglia dove vince a priori Steph. Insomma, ci sono un sacco di cose che possiamo fare, Fere. Sotto c'è qualcosa, mi dà delle vende. Mi ha ignorato, avete visto come mi ha ignorato? Sì. Che talento, Fere. Con tanta nonchialanza. Good job. Beh, Steph. Cosa ne pensi? Buonino. Allora, la cosa più utile sono le vending machine. Assolutamente. Aumentate che ti danno tutte le cose gratis. Quella, raga, è in assoluto la cosa più utile che ci permetteva di fare grandissime cose nella playground. E queste varie cose qua, carine, belline, si potevano fare meglio? Assolutamente sì. Però comunque non sono male. Si potevano fare meglio il modo in cui si posizionano. Quello è il problema principale, secondo me. Come posizionarle? Sai, anche l'idea è, fai meglio una gara di costruzioni basata su costruzioni, tipo costruire una nave. Mi metti tutti i pezzi e è come quando devi colorare una cosa già disegnata. Come quella ama. Come quella ama. E quindi facciamo la gara a chi costruisce meglio e abbiamo tipo 100 forme tra cui scegliere. Super carino. Quello delle corsi, io mi aspettavo tipo una roba a stile tempo il run, raga. Io mi immaginavo già una cosa del genere. Quella cosetta là, per essere gentili. Perché ti dicono anche per prendere le monete, ma non avevo capito che erano le monete classiche della challenge, hai capito? Quello di bersagli al tiro, utile. Non divertente, ma utile. Senza mei dubbio vi consiglio anche di giocarvela. E poi cos'altro c'era? Le navi. Le navi. Ma abbiamo visto tutto. La Specchi Stadium è migliorata. Navi, corso agli ostacoli, bersagli di tiro e ve gara di bill. Sì, c'è tutto. Ci fermiamo così. Felici ma non felicissimi. Bene ma non benissimo. Esatto. Per continuare a citare oggi. Però va bene, va bene. Sapremo come sfruttarlo, quindi non c'è nessun problema. Sentite domani Steph nel videocache. Oggi avete visto tutto quello che c'era da vedere oggi. Domani faremo un'altra giornata. Domani è domani, oggi è oggi. Qua sotto che basta. Qua sotto che fai altri video. Iscrivetevi al canale Campellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.